Ci tenevo a ringraziarvi per tutto il supporto che ovviamente mi state dando E ciao a tutti ragazzi sono Adri bentornati sul mio canale siamo ancora qui con il nostro Johnny Che deve andare da gym per la prossima missione La scorsa missione è stata tipo super adrenalinica perché Boh cioè Adoreggio proprio E ha fatto fuori tutto e tutti E ragazzi vi invito a lasciare il like al video a iscrivervi al canale Attivare la campanella e tutto quanto perché Siamo veramente Posso dire quasi la fine Parola molto pesante però Ecco mettiamo che siamo ai due terzi della storia ecco Eccoci qua da Jimmy End of chapter fine del capitolo Ah diretto così due parole si sono già capiti Andiamo a prendere Brian E a farlo a pezzi ragazzi Ci tenevo A ringraziarvi per tutto il supporto che ovviamente mi state dando Tutto quanto Tutto quello che state facendo per me Io voglio veramente Ringraziarvi tantissimo E veramente invitarvi A seguire ancora di più questo canale Che insomma Day by day Porta contenuti cose E ci tengo un casino Mi raccomando Che cazzo è che mi chiama Mi chiamano Che cazzo è che cazzo è che cazzo Oh merda comincia la guerra Bene non ci trideremo indietro Ma perché fanno sto girotondo così Che senso c'ha Anche te che poi ti metti nel me No 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 Cos'è sta roba Tornata Con su Interessante perché io credo che era la mia La mia Cosa Che scolle Che 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 Poi Puerta Care Poi Che 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 Togli via il cazzo però Devo riuscire A ammazzarli tutti senza Rischiare niente Ok No un altro frugone no C'ho lancia razzi si No non ha funzionato a quanto pare Altra gente Ok questa È la mia ufficiale fine Quanto sto tryhardando raga Non l'ho preso Preso Ne manca uno Finiti Ancora Yeah Praticamente sto rischiando per un coglione Che è venuto lì da dietro Senza ver... cioè Dal nulla Ok No! Ho ammazzato il mio compagno Sposta il mio zio Fanculo però Cioè Sei proprio sciocco Sei sciocco Ragazzi per avermi istituito tipo niente di vita Ci tenevo Ah quest'arma qua o prende la testa o non prende un cazzo Che palle però Ovviamente i colpi Per Eh Come il cazzo si chiama Lancia razzi mica me li hanno ridati? Eh no eh Non si fa Non si fa Non si ridanno i colpi No Finito il colpo Togli dal cazzo Cioè ma se dovete sparare con me Fatelo Ma a me non c'è Fate qualcosa Ammazzate qualcuno Ah bravi L'avete fatto finalmente Ecco Questo non ha senso Questo non ha senso E siamo allo stesso punto di prima E siamo allo stesso punto di prima Due arrivano lì Ti tirano tre quattro pallottole E finisce Fine della storia O li sparà Fuori Fuori N'è morto ovviamente no Mica possibile che tipo Oli due colpi Deve ricarica Ricarica vai Scemo Oh Era qui Stavo a guardarsi intorno Che coglione che sono Ora te Te Ti muovi di lì Capito? Comunque che pistola di merda Il piatto forte dov'è? Eccolo Mamma mia Mamma mia Ok Fuori uno Erano tre Ne rimangono due Ne rimangono due Dove siete? Eccoli là Eccoli là Eccoli là Li vedo Li vedo Li vedo Tu che lì insegui Non gli fai C'è proprio un cazzo Non gli fai Bello Preso così Easy peasy Veramente easy peasy Eccoli Beh Ci hanno lasciato alla base Quindi buono Rimane solo Frank Fantastico Che vita di merda Io vi saluto Lasciate like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo per la prossima missione Sempre per Jim Fitzgerald Ed Adria è tutto Ciao, statemi bene